Ti piacciono le Skittles? Le adori tanto quanto le adora Anna? Se la tua risposta è sì, amerai questa challenge con le Skittles. Pensi che un piccolo Skittles sia eccitante? Allora adorerai questo trucco. Quanti piccoli Skittles servono per farne uno enorme? Stiamo per scoprirlo. Ma prima c'è da fare un po' di ordine. Tenete duro, ci vorrà un po'. Chissà quante Skittles ci sono qui dentro. Probabilmente un milione, giusto? Invece di contarle organizziamole. Impiegheremo una vita, accidenti! Ok, abbiamo finito finalmente. Boom! Ok, sembra che la prima parte sia conclusa. Prossimo step, le bollicine. In questo modo possiamo rimuovere tutti i colori. Non sembrano nemmeno più Skittles. Specialmente quando cominciano a sciogliersi in questa pentola. Guardate tutto quello zucchero. Possiamo accelerare un po' le cose? Liscio come l'olio, il che significa che possiamo passare alla fase successiva. Modellare la caramella gigante. trasformiamo questo liquido in qualcosa di solido. Mettiamo tutto nella ciotola gigante così. E abbiate pazienza, potrebbe volerci qualche minuto. Non assaggiatela adesso. Ecco tutto fatto. Lasciamola indurire. Oh, appesa una tonnellata! E nel frattempo stendiamo un po' di pasta. Una volta stesa bene, metteteci sopra la caramella indurita. Questa sfida si sta trasformando in un allenamento. La cosa comincia a prendere forma. Mi sembra pronto. Posizionate con cura l'impasto sopra la caramella. Uno, due, tre. Girare! Spero non si sia rotta. Qui sotto sembra tutto a posto. La volgo e stendo bene. Sta venendo piuttosto bene, giusto? Dobbiamo soltanto togliere l'impasto in eccesso. E adesso un tocco di colore. Spero ci sia abbastanza colorante nel barattolo. Sembra perfetta. È bella! Ed ecco il tocco finale. L'iconica S di Skittles. Perfetto! Emissione Skittles gigante compiuta! Ecco che arriva. Oh, è davvero bellissima, non credi? Ed è completamente in 3D. Dovremmo farne un'altra in un altro colore. Che dici? Forse dopo aver postato qualche foto con questa. Cosa sta facendo Kylie? Quando non riesce a sistemare i capelli, sai già che sarà una brutta giornata. Cosa starà combinando? Sì? Senza speranza. E la festa è ufficialmente iniziata. Dobbiamo andare! Ga! Ehi! Forse ti aiuterà a trovare un'acconciatura. Ho anche portato gli elastici. Tutti e cento! Divertiti! Tanto vale iniziare. Ci metterò un po'. Ma alla fine i colori lo renderanno interessante. Devo continuare ad arrotolare. Sono quasi a metà strada. E' un po' difficile da raggiungere lassù. Serve aiuto? Puoi dirlo forte. Arrivo! E' veramente in alto. Ancora un po' e sei arrivato. Siamo a cento! Guarda che bestione! E' unico, vero? Considerami pronta per la festa. Andiamo! Un'ultima cosa. Ok. Pensa se mi fossi dimenticata queste. Ecco lo chef in azione. Dovrei aggiungere un po' più di sale. Ok. Molto più sale. No. Ancora di più. Come fa ad avere sempre lo stesso sapore? Cosa prepari? Vuoi giocare? Vedi la palla? Adesso è qui. E adesso non c'è più. Ups! Sto ancora prendendo la mano. Cavolo, incredibile! Non mi piace chi dice le bugie. Non capisco. E' ora di impilare cento bicchieri. Dannati bicchieri! Grazie. Riesco a malapena a tenerli tutti. Bene. Vuole cento bicchieri? È quello che avrà. Una volta che avrò trovato delle fondamenta solide, posso iniziare a metterli in equilibrio in questo modo. Sono ancora a metà! Ancora uno! Andiamo! Ancora uno! Jules, ti serve un aiuto? Completiamo questa sfida. Adesso il problema sono le mie braccia corte. Ci arrivo a malapena! Oddio! Sto per scivolare! Cado! Julie? Non ti vedo più! Devo portarla fuori da qui. Devo solo levare tutti questi bicchieri. Toglimi questi cosi di dosso! Ho pensato di morire. Non ho mai immaginato di morire a causa di alcuni bicchieri di plastica. Beh, dieci per l'impegno. Ehi, ragazze! Siete pronte per la mia nuova palette? Restate con me mentre li trovo. Guardate come sono splendidi! È come se da qui ci fosse passato un tornado. Ma posso sistemarlo? Julie? Oh, certo! Kylie? Aspettate un attimo! Julie! Ah, come vuoi! Dicevamo! Quest'anno andranno di moda i colori metallizzati. Vediamo come usarli. Questo pennello è il migliore. Strofinatelo piano sul colore e passatelo sugli zigomi. Così! Cosa? Sto cercando di registrare! Registra questo. Cento strati. Non avresti il coraggio. Non ho altra scelta. Ecco il primo. Meglio usare tutti i colori. Almeno vedremo che sono in grado di fare. Forza, svegliati! Ma perché soltanto le guance? Posso fare tutto il viso, giusto? Ma non so se questo pennello sia adatto. Uso le dita. Comincio a somigliare a un mattone d'oro. Stai benissimo, ragazza. Sembro una sirena robot. Qualcuno sta ancora guardando? Cosa sono tutti questi messaggi? Faremmo di tutto per i follower, vero? Quasi dimenticavo. Pronti per le labbra? Non farà mica sul serio. Oh, le nostre mani si sono toccate. Oh, mi sta guardando negli occhi. Oh, aspetta, no. Dividiamo quel KitKat a metà. Pensi quello che penso io? Cento strati. È ora di iniziare a impilare questi KitKat a strati. Costruiremo una torre di KitKat. D'accordo, continuiamo a impilare. Oh, sta già diventando più alta. Più KitKat. Ce ne servono altri. Penso sia la migliore sfida dai cento strati mai fatta. Beh, dobbiamo impilare deliziosi dolcetti. Ok, continuiamo. Dobbiamo arrivare a cento. Wow, guarda che deliziosa torre di cioccolato. Sarà fantastica quando avremo finito. Pensi ci sia un record mondiale? Potremmo batterlo? C'è solo un modo per scoprirlo. Impilando. Uh, quasi finito. Ancora uno. Ecco. L'ultimo pezzo. Fatto. Abbiamo completato la sfida. Guarda tutti questi KitKat uno sull'altro. Cento strati perfetti e deliziosi. È il momento di festeggiare. Che buono. Bene. Ma sai una cosa? Io voglio questo. No! La nostra deliziosa torre è crollata. Non posso credere che tu l'abbia fatto. No! Ha, ha! Ciao a tutti